Nella sala consigliare del Comune di Pescara il candidato sindaco Carlo Costantini ha tenuto una conferenza stampa insieme alle opposizioni in Consiglio Comunale sulle operazioni di collaudo che stanno interessando l'appalto di Viale Marconi e sulle iniziative che l'opposizione intende assumere. Nel documento di collaudo di Viale Marconi emerge un credito di oltre 270 mila euro per alcune opere non realizzate. In Consiglio Comunale le opposizioni porteranno la richiesta di una commissione di inchiesta speciale e di riduzione del numero di corsie per gli autobus con l'obiettivo di avere più parcheggi lasciando intendere di voler rappellarsi alla Corte dei Conti. Ma ascoltiamo Carlo Costantini. Il collaudo sul piano tecnico non lo discutiamo come atto che ha certificato come è colladabile l'opera ma sul piano economico lo discutiamo e come no perché il collaudatore ha rilevato che tutto quello che era stato denunciato da cittadini, residenzi e noi stessi nel corso di questi ultimi anni era fondato. Ci sono migliorie che l'impresa si era impegnata a realizzare che non sono state realizzate, ci sono opere realizzate male, ci sono interventi che si sono ammalorati in solo 15 mesi, mi riferisco per esempio alla segnaletica orizzontale, ai tombini sprofondati. Tutto questo ha comportato una liquidazione in eccesso in favore dell'impresa di quasi 300 mila euro, quindi l'esito del collado sul piano amministrativo è che la direzione dei lavori, affidata al dirigente finito agli arresti, quella gestione, quel governo di questo appalto ha prodotto un eccesso di liquidazione in favore dell'impresa di 270 mila euro. Questo ci induce a ritenere che il sindaco abbia sbagliato tre volte, ha sbagliato la prima volta quando ha modificato il progetto originario che era editato, inserendo con un'apposita variante una seconda corsia in sede protetta dei bus. Ha sbagliato una seconda volta perché si è affidato a un dirigente del quale nessuno tranne lui avrebbe mai potuto fidarsi ed ha sbagliato la terza volta perché ha consentito che all'impresa fosse liquidato un eccesso rispetto alle aspettanze effettive di oltre 277 mila euro. Noi ieri abbiamo esaminato gli atti di collado ed oggi abbiamo già preso una decisione sul piano amministrativo che è quella di richiedere al Presidente del Consiglio Comunale l'istituzione di una commissione speciale di indagine. Una commissione speciale di indagine è incaricata di verificare non solo le manchevolezze, le incongruenze e magari anche gli sperber di denaro pubblico su Viale Marconi, ma destinata ad indagare tutti i progetti e tutti gli appalti gestiti da quel dirigente in un anno o due anni. Chiederemo di inviare la delibera alla Corte dei Conti. Inoltre Costantini fa una proposta a nome dell'opposizione. Noi immediatamente ripristineremo una sola Consiglianza di Protetta per recuperare diverse decine di parcheggi che saranno comunque pochi e poi parallelamente già da domani inizieremo un'attività di coinvolgimento di commercianti e di cittadini.